Raffaele Maritato, Adhoc Travel, abbiamo presentato da pochi mesi anche il portale Adhoc Travel Experience questa è una terra dove l'esperienza, questa mattina abbiamo fatto proprio del turismo esperienziale con questa masterclass sul fusillo e ad ottobre tra l'altro è anche un buon modo per destagionalizzare Sì, assolutamente, queste sono le iniziative giuste e concrete che servono per il territorio è quello proprio che, lo spirito per il quale è stato realizzato il nostro progetto Adhoc Travel Experience quello di offrire soluzioni a chi visita il territorio tutto l'anno ci sono diverse attività, esperienze, questi eventi fanno bene al territorio danno possibilità, arricchiscono l'offerta turistica, l'offerta dal punto di vista degli eventi e delle attività da poter fare e quindi è proprio questo quello che noi cerchiamo di fare ed è bello che ci siano tante realtà, tanti giovani che lo stanno facendo insieme a noi sembra che qualcosa si stia smuovendo quest'anno è legato al cibo, cosa ci proponi come esperienza legata proprio all'enogastronomia diciamo così dal punto di vista delle esperienze, un'esperienza molto bella che noi già abbiamo nel catalogo per esempio la visita delle cedriere con la degustazione nel ficheto e tante altre esperienze quindi nel senso unire la peculiarità del territorio all'esperienza e quindi alla valorizzazione anche per far conoscere quello che noi abbiamo Domanda difficile, un tuo piatto preferito, tipico? Essendo di diamante dico la raganella Ottimo, grazie Raffaele Ottimo, grazie a tutti